amazing buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video stamani abbiamo scelto di spostarci con un mezzo diverso un mezzo marino e con gli occhiai ancora sotto gli occhi per magia ci siamo ritrovati sopra la nave e niente oggi vi facciamo vedere la rigogliosa isola d'elba ciao grazie amici siamo arrivati a rio marina guardate la bellezza di questo posto senti senti buono e niente ragazzi ora sistemiamo si tappiamo le bici e ci vediamo praticamente quando inizia la vera e propria salita eccoci qua amici arrivati a rio nell'elba ci ha proprio in chioma a fare la prima salita mortale quindi si mette il turbino quasi no vabbè dai si fa in eco va bene in elettrica è una passeggiata però il muscolare questa ci ha distrutto mi ricordo ci si fermò qui un quarto d'ora perché si disse aiuto arrivati in cima si scollina look at the amazing view eccolo qua bua del bandito trincerone mamma mia ragazzi non siamo nemmeno in cima ma guardate che vista meravigliosa ragazzi la pendenza è davvero tanta amazing ragazzi siamo pronti per la salita più difficile quella che mette alla prova gli uomini esatto siamo pronti let's go vamonos this is much difficult questa ragazzi è veramente impegnativa la discesa non tanto alla salita anche troppo questo è un tour che consiglio a tutti voi però ci vuole un minimo di abilità sul mezzo guardate la pendenza è incredibile speriamo bene perché molto molto dubbioso sulla riuscita non te ne aspettavo così e dai 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 no dio c'è da farla tutta alla spinta siamo arrivati in cima alla parete verticale ce ne aspetta un'altra dobbiamo passare qui da ripetitore e sono molto preoccupato andiamo ragazzi ovviamente noi ci impegniamo molto ci siamo svegliati presto stiamo durando fatica vi stiamo deliziando con un video che potrebbe essere meraviglioso ecco perché dovete iscrivervi e mettere mi piace è tutto fantastico esatto no hai fatto una strunzata ragazzi arrivati la discesa è questa vanno giù da quell'alberi oh ok oddio bello pronti pronti a soffrire let me see the line in la pizia amazing troppi Amazic mamma mia ragazzi ce l'abbiamo fatta questo è il punto che mi preoccupava di più perché insomma qui c'è un pezzettino così di guidato che rompe un po le scatole perché rischio alto diciamo tutto rotto anche i passaggi dei cinghiali fede occhio qui è occhio bello bello attento si ragazzi quando quando non conviene fermatevi e arrivate mi sta inquadrando si dove devo guardare da qui è uguale quando siete già stati a casa un mese col tutore ragazzi poi ok amici possiamo dare inizio alla buca del bandito un trail molto molto tecnico un po bastardello perché è tutto sbrucciolevole diciamo che il segreto è non frenare anche se potrebbe sembrare una fazzia noi però finiamo è a buio amazing si molla ragazzi parlare qui è un po difficile il terreno è veramente smosso a buio Eccoci Aiuto Ragazzi il treno non è per niente semplice Anzi Occhio Oddio Si va Si va Amazing Wow Wow Beautiful Mamma mia ragazzi Trail Non adatto a tutti sicuramente Che dà delle grandissime emozioni Ho sbagliato traiettoria Occhio al canale Mamma mia mia andata bene si scende con calma anche questa infame a mesi è un l'avevo visto salve siamo arrivati in fondo alla buca del bandito che era letteralmente di banditi piena di banditi c'erano i cacciatori a non finire era lassù quella puntina in alto è stata una discesa molto difficile tecnica ma ci è piaciuta molto siamo molto contenti adesso ci dirigiamo di nuovo alla fine di rio marina quindi in cima praticamente dove abbiamo iniziato il percorso a rifacillarci si sale e il culo fa male mamma mia ragazzi sale in eco perché la batteria già non ne puole più amici stiamo scollinando eccoci qua siamo arrivati all'ingresso delle scalette dobbiamo ancora arrivare in cima ma insomma ci siamo quasi beautiful ah ma zing molla molla la difficoltà di questi sentieri è proprio il fermarsi bene non me lo dì non me lo dì ti prego ci sei infilato come un cretino dio me solo la gomma no il forcellino vero direttamente è laterale vai a casa no aspetta aspetta si si stende no a me sto uno ripari io non ci voglio rete vorrei sboccolare ma non ci riesco non ce la posso fa non è possibile ecco un tutorial su come cambiare o sistemare la gomma si mette i vermi e si pigia la rietta ma da etana ma da etana amici che l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta e ragazzi non è andata troppo bene dobbiamo ripiegare e rientrare a rio e purtroppo siamo una ruota squarciata totalmente quindi dobbiamo capire un attimino come muoverci ragazzi è andata male eccolo qua eccolo qua non funge non funge è stato un piacere ci siamo divertiti ce la siamo goduta il panorama era bellissimo il luogo era maestoso tutto bello si la rottura di coglioni c'è stata ha bucato e il problema è che anche con i vermicelli la gomma è squarciata quindi non si riesce a sistemare quindi noi ora ci mettiamo qua mangiamo un panino e aspettiamo la nave che arriverà fra tre ore a parte questo tutto bene ricordatevi come sempre di mettere mi piace ricordatevi di iscrivervi lasciare un commentino alle nonne e noi ci vediamo al prossimo video bella bimbi